Ci voglio dire una cosa fuori dal colo, fuori dal colo che è questa. Vi rendete conto che noi stiamo facendo questa discussione per che motivo? Perché noi, tutti i dati da tutte le regioni, arrivano in un luogo chiuso, dove nessuno sa come funzioni un algoritmo. E da quel luogo chiuso, no David, non è una critica al governo, e da quel luogo chiuso esce un risultato dopo un'elaborazione. Ci sono dei tecnici, Cardinali e Maffei, dei tecnici fuori area, e dei professori universitari che da mesi dicono ci date ogni giorno i dati, ci date i criteri che usate. In quel modo qualunque ragazzino con un computer sarebbe in grado di scoprire dopo un minuto, come succede su internet, se qualcuno ha fatto un errore. Mentre invece noi fino adesso, e hanno sbagliato le regioni a non protestare su questo metodo, e ha sbagliato tutta la politica, ha sbagliato tutta la politica nazionale e regionale a non dire che i dati dovevano essere aperti a tutti. Alcuni partiti hanno chiesto, e hanno fatto di questo una battaglia e hanno vinto un ricorso al TAR, che i dati fossero pubblici. Pubblici e anche i metodi di giudizio e di conteggio fossero aperti. Perché altrimenti nessuno è in grado di giudicare. Adesso noi andremo avanti dei mesi e deciderà il Tribunale Amministrativo Regionale. Alla fine, chi ha ragione, c'è delle persone che non conoscono la matematica, l'algoritmo, e deciderà. Ed è una follia, capite? Noi dovremmo poter giudicare tutti i giorni. Io credo, io ho ascoltato il...